Considerata all'inizio degli anni 2000 da una parte dei cittadini sistematicamente inadempienti come un balzello locale di serie B, la tassa rifiuti è stata promossa a tassa seria grazie all'importanza raggiunta dai temi ambientali ed è più discussa di prima. Secondo la pentastellata Lucia Lanfredi, nella sua interrogazione di una settimana fa, questa Tari è una beffa, visto l'impegno gratuito profuso dai cittadini mai premiati dal servizio e anzi ricompensati da tariffe maggiorate per chi abita nei 2000 condomini cremonesi, in grazia anche di un contratto scaduto fra amministratori di condominio e gestori. Per tutti gli altri la tariffa è invariata, altro che diminuzione propagandata dal comune. Punta sul vivo l'assessore Alessia Manfredini, ha risposto stamattina con una pagina e mezza fitta di contradduzioni. Ecco la tabella municipale che dimostra il calo del 5% abbondante rispetto all'amministrazione Perri e 1.200.000 euro in meno versati dai cittadini. E poi vige l'obbligo di legge e anche morale, insiste la Manfredini, una stangata alla consigliera 5 Stelle che dell'etica ha fatto una bandiera. Nessuno poi ha subito le conseguenze di contratti scaduti perché linea gestioni ha applicato a tutti la tariffa in vigore, comunicandola per tempo. Le proteste contro la differenziata sono ricorrenti, parte dei cremonesi non l'accetta e porta i sacchi di indifferenziata ovunque e c'è chi teme anche le multe date a chi deposita i rifiuti nel cortile altrui da pagare assieme alle spese condominali, visto che la tariffa puntuale all'inizio, prevista in fase sperimentale, è solo al boschetto. Ci sono residenti di condominio che non vogliono pagare la tariffa aggiuntiva per il ritiro all'interno del cortile, non sul marciapiede. Alessia Manfredini ricorda la necessità di rispettare le regole, dato che sono stati proprio gli stessi residenti a chiedere il servizio aggiuntivo. La differenziata poi ha permesso di recuperare 980.000 euro dal materiale valorizzabile, introiti serviti a ridurre la tassa, che ha subito un lieve rincaro per l'incremento dell'umido con i suoi costi di trasporto agli impianti di compostaggio. L'assessore sottolinea che il premio per i cittadini però resta è il mantenimento del servizio a costo contenuto con servizi aggiornati e soprattutto la riduzione della quantità di rifiuti prodotta in media da ogni cittadino cremonese, un vantaggio per l'ambiente grazie al riciclo. Sul bando europeo però le distanze dai grillini si riducono, Manfredini conferma l'attenzione del Comune all'evoluzione normativa.